Venerdì 19 gennaio San Bassiano è il diciannovesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 346 al termine il sole sorge alle 7.45 e tramonta alle 17.02 la luna si leva alle 9.04 e tramonta alle 19.25 I sette comuni vicentini dell'altopiano di Asiago ottengono nuovamente conferma riguardo ai loro antichi privilegi tra questi anche una somma forfettaria di imposte da ripartire equamente fra di loro in piena autonomia Le previsioni per domani Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo possibili locali addensamenti di nubi basse su pianura e costa fino al primo mattino dal pomeriggio tendenza all'aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone montane Precipitazioni fino al primo mattino probabilità medio-bassa di qualche residua modesta piovigine dal pomeriggio probabilità di nuovo aumento a partire dalle zone montane di modeste precipitazioni sparse in parziale estensione verso sera alla pianura con eventuali deboli nevicate sulle zone montane fino a fondo valle e sui versanti meridionali delle prealpi oltre i 600 metri Temperature in leggero calo in montagna senza variazioni di rilievo altrove salvo lievi aumenti delle minime in pianura Grazie a tutti